Buongiorno Davido, è il 12 marzo del 2024 e cosa successe il 12 marzo del 1989, cioè 25 anni fa? Successe che Tim Berners-Lee presentò, Sir Tim Berners-Lee anzi, presentò internamente al CERN un documento che aveva scritto con Mac Word, un Word per Mac, aveva scritto un documento dove presentava la sua proposta di un modello ipertestuale servito da dei server e poi visitato, esplorato da dei client, dei computer che poi questi documenti ipertestuali contenevano dei link ad altri documenti ipertestuali presenti su altri server ecco questo modello l'avrete certamente riconosciuto, questa era la base del World Wide Web che in quel documento tra l'altro il signor Tim Berners-Lee non chiamava World Wide Web ma chiamava Mesh anzi vi faccio anche vedere il documento, se mi state guardando su YouTube o su Spotify potete anche guardare questo podcastone ecco questo è il documento originale, in realtà questo non è proprio l'originale originale nel senso che è una riproduzione in HTML del documento originale, tra l'altro una riproduzione in HTML, lo stesso formato che poi Tim Berners-Lee proprio andò a creare a partire da questa ricerca e questo è il documento che appunto lui presentò vedete questo schemino con i browser e i server ipertestuali ecco questo insomma è il primo, non proprio il primo, nel senso che lui aveva già fatto qualche ricerca insomma basato su modelli precedenti, l'ipertesto stesso è una ricerca di un ventennio prima anzi un po' di più, quindi lui si basò come tutta la scienza su dei pilastri preesistenti però qui mise insieme appunto tutto questo in una visione effettivamente abbastanza futuristica di una serie di macchine interconnesse che si scambiavano documenti perché l'idea originale del web era appunto quello di scambiarsi documenti, creare delle pagine e lì lui ideò e poi andò a creare anche l'infrastruttura software del web perché vi ricordo che Tim Berners-Lee al CERN non solo ideò questo modello ma creò anche il linguaggio con cui questi documenti sono scritti cioè HTML basandosi su un formato che già al CERN era utilizzato per scambiarsi documenti scientifici e poi ideò il primo server web, il protocollo con cui i server scambiavano documenti quindi HTTP e il primo browser con cui poi pubblicò la prima pagina web questo però magari ci arriveremo quando andremo a vedere anche l'anniversario di queste invenzioni e ricordo che tutto questo il grande Sir Tim Berners-Lee lo donò all'umanità praticamente senza guadagnarci nulla adesso certo poi possiamo stare a disquisire sul fatto che gli scienziati comunque fanno delle ricerche sovvenzionate quindi poi però non importa Tim Berners-Lee ci ha donato un cambiamento epocale ecco ed è bene ricordarlo sempre quando arrivano queste occasioni insomma se riusciamo ad accorgercene perché poi non è sempre facile però quando ecco spunta l'occasione andare a rivedere queste pietre migliaia del passato soprattutto questi personaggi che con la loro attività di ricerca hanno creato qualcosa che poi di cui poi abbiamo beneficiato tutti insomma un ricordino fa sempre bene quindi io non posso fare altro che ringraziare Sir Tim Berners-Lee per quello che ha fatto e per quello che sta continuando a fare nella sua continua opera di ricerca sul web che adesso lo sta portando appunto ad approfondire i concetti del web 3.0 mi raccomando web 3.0 non web 3 quella è un'altra cosa che piace solo a una nicchia di persone con alcuni problemi insomma che hanno le loro manie invece web 3.0 altra cosa su cui sta lavorando Sir Tim Berners-Lee le sue proposte comunque sono sempre pubbliche quindi seguirlo fa sempre bene basta era solo per ricordare insomma in avvio di questa puntatone di questo podcast di tech news che 25 anni fa Sir Tim Berners-Lee ci donò o almeno iniziò a donarci quello che stiamo utilizzando anche adesso per parlare tra di noi con questo podcast e cioè il World Wide Web basta andiamo nelle news di oggi allora iniziamo parlando dell'Italia per una volta e ne parliamo sempre poco perché naturalmente qua parliamo di tech news e il mondo tech diciamo con l'Italia nel mercato globale c'ha un po' poco a che fare ecco diciamo la verità però pare che ci siano dei cambiamenti sapete che l'Europa sta investendo molto nel mercato dei semiconduttori con il Chips Act perché per svariati motivi no? in particolare le cose stanno accelerando nell'ultimo periodo perché ci siamo accorti ecco che la supply chain è abbastanza fragile con supply chain si intende naturalmente tutta la catena di approvvigionamento che porta i chip una volta assemblati e creati nei mercati occidentali soprattutto nel mercato europeo no? abbiamo visto che basta poco per bloccare delle navi e quindi poi per rompere proprio questa catena e impedire il rifornimento, l'approvvigionamento ebbene quali sono i piani dell'Europa in questo senso? beh tra gli altri anche quello di creare delle fabbriche delle manifatture proprio di chip o comunque degli impianti di assemblaggio di appunto semiconduttori e la notizia che vi voglio dare è che c'è una azienda una startup nata tre anni fa a Singapore che aprirà una fabbrica di chip in Italia quindi andiamo a vederlo dalla news che trovo su dday.it a firma di Roberto Pezzali e dice questo articolo non sarà Intel a costruire la fabbrica di semiconduttori in Italia ma Silicon Box vi ricordo che Intel aveva dei piani per investire in Italia e creare una fabbrica appunto di semiconduttori questo piano poi non si è più fatto non si è trovato un accordo e Intel ha poi deciso di aprire in Germania allora Silicon Box neonata startup di Singapore che ha deciso di investire 3,2 miliardi di euro in Italia per uno stabilimento nel nord del paese qui tra l'altro non so se è corretto dire nel nord del paese nel senso che io non ho trovato i piani effettivi di Silicon Box per l'area, la zona dove costruire questa fabbrica e non mi pare che sia citato il nord però vabbè diciamo che gli indizi portano a supporre che questo stabilimento verrà costruito nel nord nell'Italia del nord allora l'annuncio congiunto è stato dato al ministro del Made in Italy Adolfo Urso tra l'altro parentesi vi rendete conto che in un consesso internazionale arriva qualcuno che si presenta come il ministro del Made in Italy voglio dire come fai a presentarti così senza ridere un pochetto soprattutto in inglese I am the minister of Made in Italy tu pensa come può apparire agli occhi di uno che che viene a Singapore o comunque che ha un inglese madrelingua tipo il ministro del fatto in Italia che tra l'altro cosa c'entra il Made in Italy con una fabbrica di chip di Singapore vabbè tutte queste cose sono molto buffe restiamo comunque in un'atmosfera di ilarità anche qua anche in un contesto molto serio però mettiamoci un po' di ilarità perché l'Italia tatara ok e poi l'amministratore delegato della società orientale quindi di Silicon Box Byung-John Han qui c'è anche il tweet del ministro Urso vabbè naturalmente tutti molto contenti e allegri sempre quando ecco ci sono queste queste manifestazioni di interesse arrivano big money in Italia sono tutti sempre molto allegri vi ricordo che non è molto allegri anche quando Intel ventilò l'idea di costruire oggi poi non se ne fece nulla però insomma spero che in questo caso i piani siano un pochino più concreti cosa fa Silicon Box? la startup ha trovato un metodo per interconnettere chiplet usando connessioni cortissime massimizzando quindi le prestazioni ed eliminando eventuali coli di bottiglia cosa sono i chiplet? lo dice un po' anche l'articolo sì oggi la maggior parte dei processori sono system on chip e c'è chi sta iniziando a miscelare chip provenienti da wafer differenti allora i wafer naturalmente non sono i dolcetti i wafer sono i pezzi di silicio dove si costruiscono i chip i system on chip sono dei pezzi dei chip costruiti tutti su un unico wafer quindi appunto la CPU la GPU i registri le connessioni e sono tutti in un unico pezzo perché naturalmente questo fa sì che le connessioni tra di loro siano super veloci costruirli sia più efficiente ed economico perché naturalmente devi costruire tutto con la stessa tecnologia e tutte provenienti da un unico wafer mentre cosa fa il chiplet? questi singoli pezzi vengono costruiti magari da fabbriche diverse con processi produttivi diversi e poi vengono assemblati e poi naturalmente interconnessi tra loro che vantaggio porta questo? beh naturalmente che non devi più costruire tutto insieme in un unico processo ma puoi costruire i pezzi separatamente e magari ecco anche come dicevo da produttori differenti quindi anche un avanzamento tecnologico in una singola area ti porta a far sì che non devi sostituire l'intero sistema ma soltanto un singolo pezzo poi naturalmente gli altri benefici tipo se c'è un difetto di costruzione in un singolo pezzo non devi buttare tutto il sistema ma soltanto quel chip sono vari vantaggi no? tanto anche in termini di dispendio energetico va bene chiplet è una buona soluzione probabilmente sarà la soluzione del futuro anche AMD sta investendo nei chiplet insomma è un sistema di produzione dell'hardware che potremo portarci avanti per i prossimi anni benissimo qual è il problema? mentre sul sistema on chip tutti i pezzetti sono interconnessi molto vicini quindi la velocità di trasmissione dei dati tra l'uno e l'altro è estrema è smodata invece con i chiplet la velocità scende leggermente perché naturalmente hai dei pezzi che sono più lontani proprio fisicamente e quindi il bus che collega un pezzetto all'altro deve fare più strada e insomma la trasmissione dei dati è più lenta quindi cosa fa a questo punto Silicon Box Silicon Box trova una tecnologia per migliorare le interconnessioni tra i pezzetti spero di aver descritto bene questa roba non solo Silicon Box ha trovato modo per ridurre del 90% il costo di produzione dei chiplet e anche incrementarne la velocità di produzione quindi ha un metodo proprietario di fabbricazione con tecnologia sub 5 micron sub 5 micron vabbè insomma comunque sapete la grandezza proprio dei transistor che permette l'interconnessione tra i vari blocchi dei chip più brevi ma anche con le migliori prestazioni termiche quindi naturalmente aumentiamo la velocità delle connessioni ma anche diminuiamo il dispendio termico il dispendio energetico perché naturalmente se serve meno calore per raffreddarlo capite bene che miglioriamo anche il rendimento elettrico e infatti c'è un miglioramento delle prestazioni elettriche del 50% e una riduzione del consumo energetico del 40% poi conclude l'articolo quella che nascerà in Italia sarà quindi un'azienda di packaging e testing quindi assemblaggio di questi chiplet e poi test quindi arriveranno i wafer da vari stabilimenti del mondo e verranno confezionati collegandoli tra loro per creare il chip finale il nuovo stabilimento garantirà circa 1600 posti di lavoro dice il CEO di Siliconbox non sappiamo dove sorgerà stiamo attualmente valutando diverse possibili località prendendo in considerazione una serie di fattori quali il contesto le infrastrutture disponibili e la presenza di istituti di ricerca universitarie vedete che non c'è non si parla di Nord Italia diciamo che però gli indizi parlando di infrastrutture e ricerca universitaria puntano ecco a immaginarsi un'area del Nord del paese questa notizia di Singapore di Siliconbox che ha preso in Italia è arrivata anche sulla stampa internazionale sui magazine internazionali in particolare su The Register che parla appunto di questo accordo con un pizzico di ironia come sempre ama mettere The Register è molto carina allora dice vabbè un riassunto di quello che vi ho già detto e dice l'articolo il CEO di Siliconbox dottor Byung-John Han ha spiegato che l'Italia è la scelta principale la top choice per l'espansione globale grazie a valori culturali condivisi dice proprio così shared cultural values ecco qua poi dice l'articolo di The Register non ha specificato quali valori quali values sono condivisi nemmeno se i valori condivisi sono quelli della città-stato di Singapore o della cultura interna di Siliconbox oppure che Italia e Singapore sono entrambi noti famosi per avere al centro delle cucine nazionali i noodles qua però un appunto cari da registrare i nostri non si chiamano noodles eh i nostri sono spaghetti grandemente diversi dai noodles totalmente tutt'altra cosa dei noodles proprio eh pasta lunga ma spaghetto is not noodles mi raccomando voi da registrare che mi seguite sempre spaghetto eh un'altra cosa non è vero chiaramente stessa roba comunque poi ha detto Han il CEO di Siliconbox che l'infrastruttura che c'è in Italia la base di talenti e il supporto governativo sono stati fattori decisivi per questa per questa espansione ora dice che la location è perfetta per lavorare con l'industria dei semiconduttori che si sta espandendo naturalmente in Europa come in Germania in Francia e naturalmente anche in Italia e che come fanno notare sia lui che il ministro appunto italiano la i problemi dalla catena di approvvigionamento fanno sì che ci sia bisogno di costruire queste fabbriche in Europa e poi richiamano ai piani del Cips Act e il piano dell'Unione Europea di diciamo riportare in Europa la produzione di circa il 20% della manifattura di semiconduttori globali prima della fin di questo decennio e questa roba qua questo annuncio rientra perfettamente in questa strategia e anche dice Urso si sposa con la strategia italiana per la microelettronica che spero che effettivamente sia una cosa che esiste e che vedremo svilupparsi allora per la seconda parte del podcast un trittico di notizie europee un po' frizzanti la prima che ho fatto tradurre sbagliando però ho fatto tradurre dal sistema di introduzione automatica di Firefox sbagliando perché non funziona bene Firefox io vi adoro e il sistema di traduzione automatica basato sui linguaggi sugli LLM in locale senza mandare roba al server molto bene molto bello però la traduzione da inglese a italiano non insomma fa un po' va migliorata è vero che è in beta c'è scritto che è in beta però insomma si può migliorare nonostante questo bello continuo a supportare Firefox allora cosa succede che il garante europeo della protezione dei dati che vedete che qua lo chiama PSE ma non è PSE è EDPS European Data Protection qualcosa quindi il garante europeo della protezione dei dati ha detto che l'uso da parte della commissione europea di Microsoft 365 ha violato diverse disposizioni in materia di dati dell'UE relativa al trasferimento di dati personali al di fuori appunto dell'area europea quindi il garante della protezione dei dati europei ha detto che quello che sta facendo la commissione europea quindi l'Unione europea in materia proprio di trattamento dei dati cioè leggi che la stessa commissione europea ha promulgato non va bene le viola e direi meno male che c'è questo organo che vigila su anche il rispetto delle stesse leggi che ci diamo noi allora secondo l'indagine triennale il garante ha concluso nel suo contratto con Microsoft la commissione non ha specificato in misura sufficiente quali tipi di dati personali devono essere raccolti e per quali scopi espliciti appunto vengono vengono trattati quando si utilizza Microsoft 365 che se vi ricordate è la stessa cosa che avevamo visto accadere in Norvegia con l'amministrazione pubblica norvegese fondamentalmente ha detto la stessa cosa che lì però si trattava delle scuole l'utilizzo di Microsoft 365 nelle scuole però fondamentalmente no è la stessa cosa e dice che la commissione non ha fornito garanzie adeguate per garantire che i dati personali trasferiti al di fuori dell'area UE abbiano garantito un livello di protezione equivalente a quello all'interno della regione perché naturalmente sappiamo che i dati trattati negli Stati Uniti non hanno lo stesso livello che vogliamo qui in Europa ecco perché il trasferimento non è consentito a meno che ci siano degli accordi su questo trasferimento che però non sono ancora in vigore allora dice le violazioni della commissione riguardano anche il trattamento dei dati complesi quello dei dati personali vabbè allora questi hanno il watchdog è stato tradotto con il cane da guardia giustamente insomma ha ordinato alla commissione di sospendere tutti i flussi di dati attraverso Microsoft 365 a Microsoft e di una delle affiliate che potrebbero essere situate in paesi non coperti da una decisione di adeguatezza questa decisione di adeguatezza immagino che siano questi accordi di trasferimento di dati fra stati ora la commissione ha fino al 9 dicembre per tempo per dimostrare la conformità alla direttiva oppure appunto adeguarsi c'è un commento di un portavoce di Microsoft che dice che questa decisione riguarda i requisiti di trasparenza più severi applicati solo alle istituzioni dell'Unione Europea quindi in pratica i cittadini dell'UE possono continuare a usare i prodotti di Microsoft 365 senza preoccuparsi questo ovviamente lo dice il portavoce di Microsoft immagino che dramma sarebbe se si venisse a scoprire che tutta la suite 365 è fuori legge in Europa non si può usare mai che sarebbe una news frizzante c'è anche il signor o la signora non so Javad Malik Javad Malik che lavora in Know Before che è un'azienda che fa corsi di formazione o consulenza per la sicurezza informatica cyber security ecco ha detto che la situazione evidenzia la crescente complessità e le sfide operative che le organizzazioni devono affrontare per mantenere la conformità alla normativa di protezione dei dati come il GDPR e insomma ci mancherebbe direi anche io sono contento insomma per i professionisti continua Malik per i professionisti della sicurezza informatica e le organizzazioni in generale il take away è chiaro la conformità non è un compito una tantum ma un viaggio continuo che richiede costante vigilanza valutazione e adattamento che mi sembra insomma un buon modo di chiuderla ma la notizia frizzante secondo me di oggi è questa qua e questa qui parliamo di sempre di Unione Europea vi ho detto e qua ci ricolleghiamo a Apple no abbiamo parlato per molti giorni nelle scorse settimane di Apple di DMA di Unione Europea ebbene abbiamo visto tutte le mosse che ha fatto Apple per conformarsi al DMA alcune carine alcune meno carine alcune criticate no tutte criticate ecco e insomma c'è un'aggiunta ai termini e condizioni che regolano gli store alternativi sapete che è possibile adesso aprire in Europa store alternativi per le app bene c'è una piccola eccezione che può dare fastidio ci dice D-Day sempre a firma del nostro Roberto Pezzali e qual è questa cosa che può dare fastidio? beh se un utente utilizza degli app store alternativi e resta fuori dall'Europa per più di 30 giorni potrà continuare a usare le app che ha installato da questi store alternativi ma non potrà aggiornarle quindi se un'applicazione richiede un aggiornamento per continuare a funzionare sarà bloccata fino a che torna in Europa in Italia in realtà in Europa un esempio tipico potrebbe essere proprio Fortnite qui va citato proprio per la querelle tra Epic e Apple insomma proprio Fortnite deve essere aggiornato molto di frequente perché altrimenti non ci si può connettere ai server quindi se non si ha l'ultima release dell'app è impossibile unirsi ai giochi quindi se ti scarichi se ti scaricherai in futuro quando sarà disponibile lo store di Epic ti scaricherai Fortnite vai fuori dall'Italia per più di 30 giorni non puoi più giocare a Fortnite da quell'app iPhone perché non puoi aggiornarla infatti la pagina di supporto di Apple è stata aggiornata con questa frase se qui si parla degli store alternativi poi dice se lasci l'Unione Europea puoi continuare ad aprire utilizzare le app che hai precedentemente installato sugli app store alternativi ma questi possono continuare ad aggiornare quelle app fino a 30 giorni dopo che hai lasciato l'Unione Europea quindi proprio è scritto esattamente così e come dice D-Day è evidente che questo non è né un problema di privacy né un problema di sicurezza che naturalmente fa molto ridere perché Apple ha giustificato la gran parte delle misure che ha preso totalmente diciamo contro i suoi utenti perché ovviamente andando a analizzarle sono tutte misure che mirano a scoraggiare la nascita di store alternativi di metodi alternativi di pagamento eccetera quindi ha cercato di giustificare tutte queste decisioni con la questione della sicurezza perché Apple vuole mantenere tutto sicuro i propri utenti sono la priorità tutto deve essere sicurissimo controllatissimo non può permettersi di avere cose che minino la sicurezza dei device dei propri utenti e questa roba qua vuol dire costringere gli utenti a tenere delle app funzionanti sui propri telefoni ma non aggiornate quindi come questo si concilia con la politica espressa da Apple di voler mantenere un sistema sicuro no naturalmente è soltanto ipocrisia quindi questa roba qua una volta per tutte evidenzia l'ipocrisia attuale di Apple che sicuramente non arriva dai propri sviluppatori ma dai da decisioni di marketing di politica insomma in Apple più alta a cui sviluppatori certamente non si vorrebbero conformare però va così di questi tempi funziona così e vi chiudo questo trittico di notizie dell'Unione Europea con un'investigazione che l'Europa ha aperto nei confronti di quella partnership di quel deal di Microsoft in Mistral che vale appunto 15 milioni di euro ve ne ho parlato in realtà non al podcastone ma in una clip estratta da una live infatti vi ricordo che il mercoledì come se fosse usuale gli ultimi tre mercoledì è successo così succederà anche domani che è il 13 13 marzo mercoledì alle 13.30 facciamo una live una live in cui chiacchieriamo di varie cose ma poi andiamo a leggere insieme alcune news frizzanti magari approfondiamo qualcosa ne parliamo in una di queste live anche qui una di queste sono state due sono state quindi nell'ultima live abbiamo letto l'accordo l'investimento anzi di Microsoft in Mistral e questo proprio poi è stata una clip quindi sul mio canale youtube trovate la clip in cui in cui leggo quella roba lì ebbene questo accordo è ora sotto investigazione proprio dell'Unione Europea ce lo riporta The Register dice appunto che lunedì scorso Mistral aveva annunciato i suoi due nuovi large language model uno è Mistral large che naturalmente è quello che ha più parametri e l'altro è Mistral small che è più piccolino più veloce più compatto e poi parla appunto di questo di questo investimento di Microsoft in Mistral da 15 milioni che naturalmente non è l'unico investimento in questo settore perché infatti c'è già un investimento da 13 miliardi di dollari in OpenAI e poi c'è l'investimento di Google e Amazon in Antropic però naturalmente questo genere di accordi attraggono l'attenzione proprio dei regolatori europei soprattutto di quelli dell'antitrust quindi della competizione sul mercato e infatti Lea Zuber che è portavoce della Commissione Europea che riguarda proprio la competizione la competitiva del mercato ha detto che stanno analizzando quest'accordo per vedere appunto che cosa succede questo non significa che l'Unione Europea veda del male per forza in questi accordi però devono essere attentamente scrutinati per capire se vanno a minare appunto la competizione e infatti quello che dice Margrethe Vestager è che stanno parlando con esperti di mercato e tecnici per capire quali tipi di danno questi accordi portano al mercato competitivo soprattutto per le piccole aziende naturalmente che quando arrivano questi colossi che mettono questa quantità enorme di denaro e di risorse a disposizione di queste aziende di AI naturalmente potrebbero rendere molto difficile la creazione di nuovi mercati e la nascita di nuove aziende naturalmente quindi proprio per la loro missione devono andare a investigare e capire se questo accordo sarà accettato o no ricordo che anche l'investimento di Microsoft in Open AI è sotto osservazione sotto scrutinio da parte della commissione europea e tutto questo succede per protezione nostra insomma per permettere di avere un mercato dove possano nascere nuove imprese e dove non tutto sia cannibalizzato insomma dalle enorme aziende americane che hanno una quantità di capitali insomma assolutamente impresentabili insomma in Unione Europea e quindi potrebbero naturalmente venire a mangiarsi il mercato e non lasciare ecco molte speranze per nuovi attori di emergere tutto qua ecco questo ve lo volevo riportare per chiudere questa trilogia di news in Unione Europea e direi che è l'ultima news di oggi quindi vi do un paio di link adesso allora il primo link di oggi è Latency Numbers Every Programmer Should Know è praticamente un'infografica interattiva la trovate su semwho.dev slash numbers ci sono varie operazioni scritte su barre colorate se voi cliccate su un'operazione vi dice qual è la latenza proprio il tempo di latenza per questa operazione per esempio qui c'è un lock unlock di una mutex di 17 nanosecondi ecco vedete che qua però è l'anno del 2024 quindi decrementando o aumentando gli anni si vanno a cambiare anche i valori di queste barre perché naturalmente poi le operazioni vengono ottimizzate la velocità diminuisce quindi per esempio memory questo leggi un megabyte dalla memoria un microsecondo nel 2023 ma se diminuiscono naturalmente sale e poi insomma potete fare i confronti tra varie latenze insomma un'infografica simpatica anche come impaginazione animazioni anche se qua si fa fatica un po' a navigare da desktop probabilmente da tablet è la morte sua probabilmente e poi in ultimo questo blog post che invece ho trovato molto carino è di Anil Dash lo trovate su anildash.com poi vi lascio naturalmente il link è un post di opinione si intitola wherever you get your podcasts is a radical statement quindi proprio è uno statement radicale wherever you get your podcasts che naturalmente è una frase che si sente dire spessissimo nei podcast stessi nella promozione dei podcast stessi dove trovate questo podcast dappertutto dovunque abbiate i vostri podcast dovunque potete collegarvi ai vostri podcast e in questo articolo proprio si fa a sottolineare l'importanza di questa frase perché proprio ci fa capire come il cosiddetto open web un web dove davvero il contenuto è quello che è importante non la piattaforma su cui gira e quindi il podcast in opposizione ai contenuti centralizzati come appunto youtube dove tra l'altro ci troviamo magari con molti di voi però appunto la possibilità anche di questo podcast di essere fruito dappertutto prendendo il link degli RSS e vi ricordo che il link RSS è nella descrizione di ogni episodio se voi scorrete in fondo alla descrizione trovate il link a questo podcast nelle principali piattaforme quindi da youtube spotify bla 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 e poi RSS voi prendete quel feed RSS lo leggete con qualunque lettore di podcast e quello lì vi si collega vi scarica il mio podcastone quindi effettivamente la cosa importante in questo podcast è il contenuto non dove sta poi chiaro youtube e spotify in più danno la possibilità di avere il video che gli altri podcast purtroppo non hanno e lì c'è un po' di lock in c'è un po' di vendor lock in però tutto sommato il contenuto importante che è l'audio in questo podcast è fruibile dappertutto e quindi qua in questo blog post si va proprio a rimarcare l'importanza di questo cioè di avere un web dove il contenuto è al centro e queste piattaforme siano decentralizzate e i contenuti possono essere fruite dappertutto spostati da una piattaforma all'altra insomma è una visione di web con cui mi vorrei ricollegare proprio all'introduzione proprio alla nascita del World Wide Web così come lo concepiva 30 Manners Lee quindi un web fatto di collegamenti tra documenti e non di Wallet Gardens insomma dove ritrovarsi non poter uscire non poter tirar fuori quindi non piattaforme decentralizzate ma una interconnessione di contenuti di documenti e di persone insomma ecco un auspicio anche che si torni a questa visione però si sta tornando insomma diciamo che il modello di open web sta ritornando a prendere piede e di questo insomma sono molto contento e chiudo qui grazie per avermi seguito anche oggi tra l'altro voglio ringraziare anche Suze che mi ha donato in completa amicizia e senza nessuna pressione da parte mia questa maglietta alla open source day di Firenze non è vero li ho pressati per un quarto d'ora per riuscire ad ottenerla non so perché io non sono stato all'Aquic 23 però insomma mi piaceva questa maglietta sembra sembra una maglietta di un pub però è molto carino mi hanno dato anche una berrettina una cuffia che però è ancora a lavare quindi magari se bazzicate per gli eventi di Bologna di questa fine settimana giovedì e venerdì ci sono DX Day probabilmente girerò questo evento con questa maglietta o con questa maglietta o con la cuffia o con entrambe non lo so poi c'è caldo quindi non so se mi metterò la berretta insomma non lo so però berrettina molto carina Suze quindi Suze grazie mille per questo regalo totalmente spontaneo che mi avete fatto no davvero comunque comunque grazie sempre simpaticissimi i regaz di Suze e grazie anche a tutti quelli che mi hanno seguito in questo podcast noi ci rivediamo magari domani e ricordatevi anche che c'è la live domani 13.30 live pranzolina parliamo un po' insieme leggiamo un po' di news ciao